Karma The Colors su R101, stiamo parlando dei nomi che avete dato ai vostri animali, soprattutto alla dietrologia appunto per questi nomi. Ho notato un sacco di animali che si chiamano spritz, ad esempio saluto una nonna veneta perché si è firmato così. Mia figlia ha scelto il nome del mio gatto rosso tigrato, spritz, ma siete in tanti, cioè spritz è gettonatissimo. Tra pochissimo ascoltiamo le vostre voci, quindi state con noi. R101 Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Deadpool e Wolverine. Pensa al divertimento. Al caos. Marvel presenta. Io non so come si salvano i mondi. Tu eri un X-Man. Eri l'X-Man. Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Chissà se vivrai o morrai. Deadpool e Wolverine. Dal 24 luglio, solo al cinema. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto. Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma. Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire. C'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con Carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Dove c'è l'egria, c'è San Crispino. San Crispino è il nostro vino tutti i giorni. Sulla nostra tavola. San Crispino, il nostro vino. Bevete responsabilmente. Il mare è il cuore pulsante del pianeta. Ogni onda ha il suo battito. E Foxy vuole dare il suo contributo per proteggerlo. In collaborazione con Plastic Bank, Foxy si impegna a recuperare la stessa quantità di plastica vergine utilizzata ogni anno per le sue confezioni. Raccogliendo la plastica abbandonata prima che finisca negli oceani. E trasformandola in risorse per combattere la povertà. Foxy con Plastic Bank. Un piccolo gesto per creare un'onda di cambiamento. Ma sì che non vedo l'ora di andare in vacanza. E sai cos'altro aspettavo? Gli occhiali da sole in saldo su Zalando. I costumi. Ho già detto i saldi estivi su Zalando. Vestiti, creme solari, sandali e migliaia di lucchi in sconto fino al 60% solo su Zalando. Ace e Alessandro Borghese presentano Quattro macchie Il sugo incrostato Quella chiazza in fondo al forno Ehi! Sono qui! L'ultima grigliata sulla piastra Ancora? L'unto che sulla teglia ha voglia Come arriveranno a un pulito da dieci? Psst! Con Ace sgrassatore universale. Grazie alla nuova formula è super efficace nella rimozione del grasso ostinato. E dai, basta! Psst, psst! Ace, il pulito che unisce. Bruno! Ale! Che c'è? Ho montato il wifi da te! Ma l'hai montato da te? Sì, ma puoi montarlo anche da te! Ed è velocissimo! Dove non arriva la fibra c'è l'FVA 5G di Vodafone con il wifi da te. Lo installi da te ovunque. Quest'estate a 21,90 euro al mese. Vieni in negozio. Promozione valida fino al 31 luglio. Salvo proroghe. Per ulteriori info, costi e limitazioni tecnologiche vai su Vodafone.it. A-a-arredissima. Funzionalissima. Grandissimissima. Fighissima. Comodissima. Arredissima. Dove la vita è issima. Risparmia subito fino a 7.500 euro. Con 5.000 di buono arredissima più 2.500 di bonus mobili 2024. A-a-arredissima. Ninna nanna, ninna oh. L'incentivo a chi lo do? Pennichella sotto il sole. E ti bruci l'affarone. Chi dorme non piglia incentivi. E allora cosa aspetti? Corri subito in concessionaria a prenotare il tuo incentivo statale prima che si esauriscano. Scopri la gamma Fiat e tutte le offerte su nuova Panda Hybrid, nuova 600 Hybrid e tipo diesel. La scegli adesso, ti godi le vacanze e inizi a pagare da ottobre. Siamo aperti anche il sabato. Info su fiat.it. Avevi solcato gli oceani oltre l'orizzonte, sfidando mostri marini, mare in burrasca. La tua pala colpì il coperchio di un forziere pieno di tesori. E tutto mentre preparavi le lasagne. Audible. Più ascolti, più immagini. Scopri migliaia di audiolibri, podcast e avventure straordinarie. su audible.it Vieni a scoprire la meraviglia degli imperdibili saldi di Calliope. Sconti fino al 70% in negozio e online su calliope.style. Calliope, per uno stile contemporaneo e versatile. Calliope, embrace wonder. Durata saldi da normativa regionale. Virgo Cosmetics è bellezza e tentazione. Per voi che avete una personalità audace, sicura di sé e sfrontatamente unica. Su virgocosmetics.com potrete lasciarvi incantare da una linea completa di make-up che vi farà sentire unici e straordinari. Virgo Cosmetics, il lato affascinante del peccato originale. Che incubo! Ho sognato che l'estate era finita. Ma no, stai tranquilla, era solo un brutto sogno. Con Costa estate tutto l'anno. Prenota la tua crociera con Costa entro il 26 agosto. Da 549 euro a persona e parti per Barcellona, Dubai, le Antille. Info in agenzia di viaggi o su Costa.it. Costa. Maestro, in quest'ora così buia, come vederci chiaro? Che ola è? Le due di notte. In quest'ora buia, è di tutto la farmacia all'angolo. Farmacia? Chiedi contatta, ci vedrai chiaro. Fidati del tuo farmacista. Con le lenti giornaliere contatta per la miopia. Vedere bene è facile a qualsiasi ora. Contatta, benessere degli occhi. In farmacia è pala farmacia. Para. E che ho detto? Pala, pala. È un dispositivo medico CE0123. Leggere attentamente le avvertenze. Outmin Sun. Questa, questa è la radio che ti fa stare bene. Bunker 44 e state 80. Io volevo salutare la nostra amica Antonia che dice che ha chiamato il suo cane Nika perché in siciliano significa piccola quando l'ha messa in macchina per portarla a casa si è addormentata dentro la scatola delle scarpe mentre pensava avere i nomi ha detto mamma mia che Nika lei si è svegliata e mi ha guardata in quel momento ho deciso il nome ti chiamerò Nika anche chiamata Canetopo a volte e poi ci ha inviato una foto concordo sul Canetopo. Questa sera è un'altra nuova storia Mal di testa? Mal di schiena? Puoi provare la carta Speedidol Grazie a ibuprofene con arginina si assorbe più rapidamente del solo ibuprofene Speedidol azione rapida contro dolore e infiammazione Da Zambon in farmacia è un medicinale a base di ibuprofene sale di arginina che può avere effetti indesiderati anche gravi leggere attentamente il foglio illustrativo Questa sedia è perfetta per il nostro soggiorno vero amore? Squisita E quel letto? Il prezzo è buono no? Buonissimo Guarda c'è anche il copripiumino colorato Carino Davvero davvero delizioso Con i sal di Ikea ci prendi gusto Approfitta del momento più atteso dell'estate con centinaia di prodotti scontati fino al 50% e ogni venerdì diventa tutto più gustoso Al ristorante trovi i piatti più amati a metà prezzo Hai tempo fino al 18 agosto? Questo mese mi sono fatta un regalo e ho pagato solo 49 euro Ma cosa? Un abbonamento alla Pay TV? Ma no! Sto parlando della mia nuova Citroen C3 Da non credere, vero? La rivoluzione è iniziata con Citroen C3 da 49 euro al mese Tutto il meglio del comfort Citroen in una city car compatta Tanfisso 410, TAEG 6,92 Rata finale 10.148 euro Salvo approfazione Stellantis Financial Service Varito fino al 31 luglio 2024 Ah, dimenticavo! Anche 100% elettrica Tra pochissimi amici su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene uno spazio in cui siete voi che decidete quale sarà la canzone che ascolteremo come sempre messaggi e voci al 331 80 90 101 Marco adora il pesto alla genovese Martina il pesto alla calabrese e il piccolo Luca quello pomodori secchi e formaggio Ah, ma in casa mia comando io e stasera si mangia il pesto alla genovese senza aglio polli con basilico italiano lavorato fresco entro 24 ore Troppo buono! Pesti polli Provali tutti Partecipa al concorso e vinci una cena stellata Instant Win con superpremio dal 3 giugno al 3 novembre 2024 Montepremi 6409,35 euro ID esclusa Regolamento su polli.it Hai sentito? Stosa continua a celebrare i suoi 60 anni con una promozione esclusiva Blocca il prezzo dell'estate e scegli la tua cucina Stosa entro il 31 agosto a tasso zero La cucina che ti meriti al prezzo che desideri è già pronta Cerca il punto vendita più vicino Trova la promozione su misura per te e scegli la tua cucina Stosa entro il 31 agosto I sogni si avverano con Stosa Cucine Stosa Cucine 60 anni di design italiano Premiati e vai su Stosa.it Il mare è il cuore pulsante del pianeta Ogni onda ha il suo battito E Foxy vuole dare il suo contributo per proteggerlo In collaborazione con Plastic Bank Foxy si impegna a recuperare la stessa quantità di plastica vergine utilizzata ogni anno per le sue confezioni raccogliendo la plastica abbandonata prima che finisca negli oceani e trasformandola in risorse per combattere la povertà Foxy con Plastic Bank un piccolo gesto per creare un'onda di cambiamento Ecco che vola Vola su Deghi.it Esce il portiere Buongiorno E consegna Deghi ha consegnato Su Deghi.it questo mese la consegna è gratuita in tutta Italia per la felicità dei portieri e di tutti noi Riprendiamoci dagli europei arredando case terrazzi giardini con Deghi oltre 45.000 mobili in pronta consegna e la consegna è gratis fino a fine luglio se non Deghi non ci credi per fare la spesa intelligente basta venire da Eurospine come Luca con pochi soldi faccio una spesa da 30 in lode o come i De Rossi i prodotti Eurospine li trovi solo qui così paghi solo la qualità ma anche come Einstein ma no sono Gigi non ci vuole mica un genio per capire che qui la spesa è intelligente dal 18 al 28 luglio 4 pizzette margherita surgelate 3 mulini a 1,50 euro la spesa è intelligente Corri da Troni fino al 24 luglio prendi 3 e paghi 2 acquista 3 prodotti il meno caro è in regalo come la scopa ricaricabile Samsung Jet 95 con spazzola lavapavimenti in regalo regolamento nei punti vendita Troni non ci sono paragoni Ace e Alessandro Borghese presentano 4 macchie l'olio sulla piastrella le chiazze nel frigo tralone sul bancone che te lo raccomando l'unto sulla cappa che ancora stai a come ribalterando la situazione con Ace sgrassatore universale grazie alla nuova formula è super efficace nella rimozione del grasso ostinato e dai basta Ace il pulito che unisce fermi tutti è il momento giusto per un aperitivo musica amici chiacchiere e Kinley la tonica perfetta per il tuo drink con le sue note botaniche che la rendono unica stanco della solita tonica? scegli Kinley recuperare energia per sfide sempre più grandi entra in modalità Dorelan approfitta dei saldi estivi con sconti fino al 50% in negozio e online fino al 4 agosto Dorelan dormire bene vivere meglio una settimana al concerto come posso trattare la cestite? posso prendere monorelle plus F che aiuta a prevenire e controllare la cestite perché la cestite dal concerto deve restare fuori monorelle plus F il benessere nelle piccole attenzioni è un dispositivo medico cile leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso da Zambon in farmacia la colonna sonora dell'estate cambia ogni anno ma le specialità più buone non cambiano mai come la straordinaria mozzarella fiordilatte deliziosa un grande classico dal sapore inconfondibile realizzata con il miglior latte del territorio pugliese deliziosa un sapore che ti puglia le vacanze te le risolviamo noi le file ai caselli te le facciamo saltare noi le rate del canone per il primo anno te le regaliamo noi e le spese dei pedaggi te le posticipiamo noi paghi ogni tre mesi le migliori soluzioni di mobilità te le dà solo Telepass oltre 30 servizi a disposizione e se diventi cliente entro il 4 settembre hai il 20% di cashback sui pedaggi estivi messaggio pubblicitario con finalità promozionali offerta soggetta limitazioni e accettazioni regolamento foglio informativo e condizioni della promozione su telepass.com buona estate con Telepass Teenage Dream Party una serata unica per chi è stato adolescente negli anni 2000 il party itinerante per chi ha voglia di cantare ballare e divertirsi Teenage Dream Party 31 luglio Spiaggia del Faro Iesolo 2 agosto Beach Arena Rimini e tante altre date Teenage Dream Party acquista il tuo biglietto su TeenageDreamParty.com radio ufficiale R101 21 e 48 minuti buona serata buon giovedì c'è la canzone che ti fa stare bene su R101 ogni ora un brano che scegliete voi lo fate al 331 80 90 101 con i vostri messaggi ci fate tornare indietro nel tempo con le canzoni che avete nel cuore che sono speciali per voi e che avete voglia ovviamente di riascoltare volevo salutare la nostra amica Angela ciao Yaki la canzone che mi farebbe stare bene adesso che sto tornando a casa è The Riddle di Nick Kershow Camilla Cabello Don't Go Yet su R101 chi c'entra Total? non è Angelina Mai? beh il sound il sound era molto Total molto estivo è molto latino sicuramente comunque noia totale invece la barzetta di Pedro che io non capisco perché ci ostiniamo a mantenere nel palinsesto andrebbe castrata non è incredibile comunque come voi fate di tutto per inserire delle cose e poi dopo due o tre settimane vi annoiate già già non vi piacciono più no basta no no basta ma cosa ti è passato quando hai scelto di fare questa barzelletta che cosa ti è passato per la testa Emma Fan Fatale Emma Fan Fatale su R101 trafficanti ora io non so se ridere o piangere ma al 331 80 90 101 arrivano messaggi per Pedro io spero siano minacce spero come lo alzate ma questo poi fa tutto un programma di barzelletta ma quale oceano pacifico atlantico indiano pacifico forse notizia eccezionale questa estate con Rocchetta 2 più 2 fa 6 acquista 4 bottiglie di acqua Rocchetta e te ne regaliamo altre 2 con Rocchetta ti depuri ti idrati e sei più bella d'estate Rocchetta puliti dentro e belli fuori blim blim e ricorda 2 bottiglie sono in regalo parola di Michelle le vacanze te le risolviamo noi le file ai caselli te le facciamo saltare noi le rate del canone per il primo anno te le regaliamo noi e le spese dei pedaggi te le posticipiamo noi paghi ogni 3 mesi le migliori soluzioni di mobilità te le dà sono Telepass oltre 30 servizi a disposizione e se diventi cliente entro il 4 settembre hai il 20% di cashback sui pedaggi estivi messaggio pubblicitario con finalità promozionali offerta soggetta limitazioni e accettazioni regolamento foglio informativo e condizioni della promozione su telepass.com buona estate con Telepass Virgo Cosmetics è bellezza e tentazione per voi che avete una personalità audace sicura di sé e sfrontatamente unica su virgocosmetics.com potrete lasciarvi incontrare da una linea completa di make up che vi farà sentire unici e straordinari Virgo Cosmetics il lato affascinante del peccato originale Elegant Relax Emotion Cool Scopri l'atmosfera perfetta per il tuo stile con nuovo Lexus LBX il nostro primo urban SUV compatto con il meglio del DNA Lexus trasforma il tuo mondo in un viaggio straordinario con nuovo Lexus LBX Full Hybrid Everyday Extraordinary Tuo da 29.900 euro solo in caso di rottamazione anche grazie agli equincentivi statali provalo subito negli showroom Lexus maggiori info su Lexus.it Mia sorella ha ragione e non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi ma mi ascolti? Sì, certo da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole magnifici nel gusto e nel prezzo sempre a 6,50 euro solo da Old Wild West Dalla ricerca Arval il sistema abbronzante rapido Half Dimes in due fasi l'abbronzante accelera l'abbronzatura ed il fissante la mantiene più a lungo nel tempo scopri nelle migliori profumerie Half Dimes e la linea completa di protezioni solari ocean friendly il sole Arval ogni emozione passa dalla pelle Hai visto la nuova Fuma Hybrid? Sì ora è più connesse tecnologica con modem 5G e touchscreen da 12 pollici e con l'offerta di lancio hai fino a 6.750 euro di incentivi Ford e statali scopri nuova Fuma Hybrid su Ford.it all'esse lunga la convenienza parla da sé siamo gli sconti fino al 50% compositori di convenienza le offerte sono musica per le nostre orecchie con noi la spesa la si fa risparmiando all'esse lunga e tempo di sconti fino al 50% un esempio riso scotti venere 800 grammi o basmati un chilo scontato del 50% a 2,59 euro fino al 31 luglio solo con carte fidati fino a esaurimento scorte il negozio è su esselunga.it ma sì che non vedo l'ora di andare in vacanza e sai cos'altro aspettavo? gli occhiali da sole in saldo su Zalando i costumi ho già detto i saldi estivi su Zalando vestiti creme solari sandali migliaia di look che sconto fino al 60% solo su Zalando hai sentito? Stosa continua a celebrare i suoi 60 anni con una promozione esclusiva blocca il prezzo dell'estate e scegli la tua cucina Stosa entro il 31 agosto a tasso zero la cucina che ti meriti al prezzo che desideri è già pronta cerca il punto vendita più vicino trova la promozione su misura per te e scegli la tua cucina Stosa entro il 31 agosto i sogni si avverano con Stosa Cucine Stosa Cucine 60 anni di design italiano premiati e vai su stosa.it nel business per fare la parte del leone servono agilità carisma forza e Peugeot ti offre tutto questo con una gamma di veicoli commerciali completamente rinnovata anche in versione 100% elettrica partner expert boxer leader per natura gamma veicoli commerciali Peugeot a partire da 15.200 euro oltre IVA con incentivi statali e rottomazione fino al 31 luglio per info su rottomazione e incentivi statali verificare i siti delle autorità competenti maggiori info e consumi ed emissioni su Peugeot.it Siamo pronti amici trafficanti ad accogliere le vostre richieste qual è la canzone che vi fa stare bene che volete ascoltare qui in questo momento Paola e Chiara chiudono la puntata di quest'oggi festa totale su R101 tiro sempre un sospiro di sollievo quando dici chiude perché almeno il rischio di un'altra barzelletta non c'è ma c'è ancora la puntata di domani non cantare vittoria francamente me ne infischio torniamo domani dalle 17 alle 20 grazie a tutti voi amici trafficanti di R101 grazie a Diego Petter e a Giacomo Gianni in redazione e come no noi siamo i Finlay e questa è R101 i trafficanti i trafficanti i trafficanti di R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata R101 la radio che ti fa stare bene R101 R101 Tgcom 24 Breaking News una buona serata da Virginia Giacomina il Parlamento europeo ha rieletto Ursula von der Leyen come presidente della commissione con 41 voti più di quelli necessari la situazione su strade e autostrade sulla 19 Palermo Catania si procede a rilento per un incendio allo svincolo di Enna sulla tangenziale di Napoli ralentamenti tra Vomero e Camaldoli in direzione Capodichino code sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso tra Fidenza e il bivio per la 15 Parma-La Spezia in direzione Bologna sulla 4 Milano-Brescia code tra la barriera di Milano-Est e Cormano viaggiando in direzione Torino code per lavori sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord città Sant'Angelo e Atripineto in direzione Ancona sulla 7 Milano-Genova incolonnamenti tra il bivio per la 10 dei Fiori e Genova in direzione del capoluogo Ligure infine sulla 10 dei Fiori si segnala un incidente allo svincolo di Spotorno per il momento è tutto vi raccomandiamo la massima prudenza le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS per fare la spesa intelligente basta venire da Eurospir come Luca con pochi soldi faccio una spesa da 30 in lode o come i De Rossi i prodotti Eurospine li trovi solo qui così paghi solo la qualità ma anche come Einstein ma no sono Gigi non ci vuole mica un genio per capire che qui la spesa è intelligente dal 18 al 28 luglio 6 coni gelato dolciando con panna o vaniglia e cacao o amarena a 2 euro la spesa intelligente una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto è un medicinale veterinario leggere attentamente il foglio illustrativo AdTab amarsi è facile AdTab ecco che vola vola su deghi.it esce il portiere buongiorno e consegna Deghi ha consegnato su deghi.it questo mese la consegna è gratuita in tutta Italia per la felicità dei portieri e di tutti noi riprendiamoci dagli europei arredando case terrazzi giardini con deghi oltre 45.000 mobili in pronta consegna e la consegna è gratis fino a fine luglio se non deghi non ci credi il nuovo stecco gourmet coppa al cioccolato fondente fave di cacao e mirtilli neri è così buono che stop scusate ma io ho studiato all'actor studio e? no è che se io non assaggio non riesco e medesimarmi non ho portatele uno stecco ma chi me l'ha mandata questa? i nuovi gelati copp sono così buoni che provali tutti la copp sei tu? let's go è tutto vero da Media World sta per arrivare il tasso zero tu cerchi il meglio della tecnologia da noi dal 19 al 31 luglio la trovi anche a tasso zero e la prima rata la paghi a ottobre messaggio pubblicitario informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria Media World let's go peanut butter fiorentini ha una grande novità una crema di noccioline da spremere la agiti sviti il tappo e la spremi sul pane sullo yogurt o direttamente in bocca ragazzi che buona ascolta R101 dal tuo smart speaker chiedi al tuo assistente vocale apri R101 R101 stanco di questo e vorresti sentire questo? tuffati nei profumi unici di fabuloso e vinci una vacanza da 5.000 euro acquistando 10 euro di prodotti fabuloso approfittane subito regolamento e marchi coinvolti su colgate.it slasher in borsi se ti muovi come un ninja anche quando vai a fare la spesa se vai alla ricerca dell'arca perduta anche ai giardinetti se ti alleni per la maratona anche in coda all'ufficio postale cerchiamo te nessun'altra esperienza richiesta scopri come diventare agente folletto vai su lavorainfolletto.it fermi tutti è il momento giusto per un aperitivo musica amici chiacchiere e Kinley la tonica perfetta per il tuo drink con le sue note botaniche che la rendono unica stanco della solita tonica? scegli Kinley vecchio superato e inefficiente dice me no al tuo veicolo commerciale rinnovalo con i Ford Pro Days nuovo Ford Transit Custom a 23.500 euro IVA esclusa in pronta consegna grazie agli incentivi statali ma frittati stanno per terminare il mare è il cuore pulsante del pianeta ogni onda il suo battito e Foxy vuole dare il suo contributo per proteggerlo in collaborazione con Plastic Bank Foxy si impegna a recuperare la stessa quantità di plastica vergine utilizzata ogni anno per le sue confezioni raccogliendo la plastica abbandonata prima che finisca negli oceani e trasformandola in risorse per combattere la povertà Foxy con Plastic Bank un piccolo gesto per creare un'onda di cambiamento R101 Meteo Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TG Com 24 le previsioni meteo per le prossime ore cielo sereno ovunque fino al pomeriggio quando è previsto un temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi del nord e sull'Appennino meridionale isolati rovesci e temporali su Alpi e Appennino Ligure temperature con poche variazioni minime quasi ovunque al di sopra dei 20 gradi massime per lo più comprese fra i 32 e i 38 gradi con punte superiori ai 40 venti deboli a regime di brezza per maggiori dettagli consultate sito e app di Meteo.it questa è la radio che ti fa stare bene R101 enjoy the sun enjoy the music R101 R101 che ti fa stare bene Grazie a tutti